ciao ragazzi io sono mario il coach io mi sto preparando per il prossimo video fallo in spiaggia con il coach allora ragazzi una premessa dovuta prima che inizi ad allenarti allora sai come si dice in questi casi prima di iniziare dovesse avere il parere medico giusto magari hai bisogno di una consulenza di un nutrizionista per il tuo stile alimentare oppure magari stai per recuperare un infortunio a qualche passato sportivo quindi devi consultare insomma ragazzi tutto questo per dirvi che stiamo costruendo una grande squadra quindi un team perfetto con tutte queste figure che puoi trovare all'interno insieme proveremo ad aiutarti a capire qual è la giusta programmazione magari i giusti metodi da applicare in base al tuo obiettivo quale performance che magari devi raggiungere è tutto questo e non ne sapevi nulla scusatemi questa parte ma dovevo proprio dirla non ho detto proprio uguale ma volevo somigliare proprio a lui a just make questo canale che state guardando proprio adesso magari vi lascio il link in descrizione andate a visitarlo un ragazzo fantastico allora ragazzi questo era per sottolineare l'importanza di questo team che sta uscendo fuori ho scelto il mare oggi per dirvi questo anche se siamo di più alla montagna ma questo è un altro discorso quindi se ti va scrivimi giù la tua condizione fisica in generale magari proverò a darti qualche consiglio buon allenamento anzi no allenati bene